Quanto tempo siete rimasti in Svizzera? Dieci o undici anni? Ah, dieci, dieci anni. Mi passate i piatti? E dai, non caccia, mamma. Vedi che ora si sporca tutto col sughetto, eh? E lasciami. Non so, povergine. Non c'è verso di togliergli sto vestito. Ma non sai come sono i bambini? Ti piace mascherarsi. Che cosa sono? Non si mangia niente. Dicci ora tu che a me non mi senti. Voilà! Ehi, i calamari ripieni. Grazie, zio. Non so se stanno più bene. Mi fa bollice sempre così, dici? Comunque questi sono calamari dell'oceano. Io il pesce del Mediterraneo non lo compro più. Perché non è fresco? Non sa mai quello che ti mangi. Non quelli che ci cadono dentro, che affogano. Ci ha detto il cugino di Nino che è nella marina. Non sai quanto ne sono questi corpi? Clandestini. Marocchini sono. E i pesce che se dovrebbero mangiare, scusa? Ecco appunto, meglio comprare i pesce dell'Atlantico. E' un brindisi. E' un brindisi. E' un brindisi. E' un brindisi. Basta con la tristezza, eh? Facciamo un brindisi. Forse è merito di Dio, forse del mare, brindisi faccio a questo calamare. Nino. La dovuta è alla nuova chiavetta. Negli occhi. Solo per il brindisi, eh? Un dolce. Vai. Come li hai facci? Mollita, prezzemolo, agno. Per caso la mamma ti riposa di spazzatura? A me mi piace anche la mamma. E infatti sono ottime. Allora le prendi dalla pentola, non devi mangiare i suoi avanzi. Non li ho toccati. Non li ho toccati, non li ho toccati. Non li ho toccati, non li ho toccati. Non li ho toccati, non li ho toccati, non li ho toccati. Vieni papà, vieni. Poco poco però, eh? E' la nostra Marta? E' pronta per la Crescima? Sì. Ma lei aveva già frequentato in Svizzera. Già è preparata. E qui ha iniziato il corso da poco. Domane ha tanto insistito. E' ha fatto bene, sister, Maria Santissima. E' pure un modo per farsi degli amichetti, per conoscere gente di qua. Poi, a Crescima è meglio questa la fa subito, così si dà l'olio a pensiero, no? La torta! Che bella torta! E' pure rosa. Grazie. Ma qui, rosetta mia! La fotta Marta? Eh sì, la fotta Marta da sola. Perfetto, è che sì. C'è fine. Ehi! Ciao amori! Alleluia, ciao! Che ne vuole un pezzo? Io! No, no, no. Tu, zio? No, zio, guarda, te ringrazio, ma proprio sono pieno. Sì, anche io sono più stupiare. Basta. Assaggiamo. È buono! Non sapete che vi perdete? È buonissimo. È che stanno così. Mangio, 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 e poi non lascio lo spaccietto per il dolce. Ma quello è il mio reggiseno, Marta? Ma lo so. Non vale. Se prende le mie cose, me lo deve dire. Eh dai, non le dica, è oggi il tuo compleanno. Appunto! Perché si mette a fare il reggiseno, ma l'hai vista? È una bambina. Basta. E poi ne se ne va. Ma dove va? Che non accetta neanche le critiche. È facile andarsene con me. Ma stai. Ma stai. Ma stai. Ma stai.